Stava rientrando all'escursione in barca, all'altezza del borgo di Erchie, la macabra scoperta. È stato un diportista ad allertare la guardia costiera di Salerno per la presenza di un cadavere a pelo d'acqua, nella zona in cui lo scorso 14 agosto non si hanno più notizie di Manuel Cientanni, il 29enne salernitano vittima di un incidente in barca. Il corpo, tumefatto, in evidente stato di decomposizione, galleggiava col volto in acqua. Addosso soltanto un costume di colore bianco e nero, lo stesso che il cuoco della Lega Navale di Salerno aveva il giorno dell'incidente. Necessario l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco con il personale tuffatosi in mare per poter adagiare il cadavere all'interno del sacco recupero salme. Poi il trasferimento a bordo della motonavetta al porto di Salerno al molo Manfredi per l'esame esterno della salma da parte del medico legale disposto dal magistrato. Il costume, i tatuaggi, il colore dei capelli non lascerebbero dubbi sull'identità del corpo che in serata è stato trasferito all'obitorio del Ruggi dove nei prossimi giorni sarà sottoposto ad autopsia. Dal racconto degli amici che erano con lui quel giorno, un 19enne originario del Marocco e un 33enne dell'est europeo, Manuel, era stato tranciato dall'elica del natante della lunghezza di 6 metri che i tre avevano preso in locazione a Salerno. Di ritorno all'escursione nel mare della costiera amalfitana dopo pranzo alla marina di Conca, intorno alle 16.30 una brusca virata avrebbe provocato la caduta in mare del 29enne. Nel tentativo di recuperarlo il marocchino che si trovava al timone in quel momento avrebbe fatto marcia indietro colpendo l'amico con l'elica del motore da 40 cavalli. Inutile il tentativo da parte dell'altra persona a bordo di tuffarsi per salvargli la vita. Non si spiega come il corpo di Manuel sia potuto ricomparire proprio nell'area in cui era scomparso 48 giorni fa. In ogni caso, come detto, sarà l'autopsia a chiarire degli aspetti ancora poco chiari di questa tragedia.